Non siamo stati dal primo minuto subito in partita, i derby sono partite molto sentite sia dalla nostra parte sia dalla loro, sappiamo che abbiamo una buona squadra noi come sappiamo che anche loro sono una squadra fisica, quindi secondo me c'era bisogno per i primi minuti di prendere le misure, dopodiché è stato tutto più facile per tutti. Il sabato prossimo sappiamo già cosa aspettarci e sono più che sicuro che loro ci aspetteranno a bracciaferte come si dice, non con lo stesso animo che hanno avuto oggi ma con voglia di rifarsi, quindi sarà sicuramente una partita molto dura sia sul piano fisico che sul piano mentale perché i derby sono partite come ho detto prima molto sentite. Questi 14 mesi sono stati molto duri sinceramente, è cominciato tutto che sembrava una cosa da niente, una botta alla spalla per poi sfociare in un grosso punto di domanda perché avendo fatto molte visite ancora non si riusciva bene a identificare quale fosse il problema. Fortunatamente poi verso inizio gennaio l'idea era ben evidente, si è capito insomma quale fosse il problema alla mia spalla. Prontamente siamo riusciti a fare subito nel mio tempo possibile l'intervento grazie ai fisioterapisti e allo staff SNC, Mauro e Giorgio che insomma sono stati molto molto presenti nei miei riguardi in questi 14 mesi. Sono finalmente riuscito a tornare in campo, sono stati dei periodi duri, bui alcuni, però l'importante ciò che mi rende felice è essere tornato in campo. È stato molto bello, però fino al momento in cui non sono entrato proprio nel campo di gioco ero sempre un po' tenuto, paura forse di, visto come è andata la settimana prima di Connacht, di fare quel passo di troppo per il quale non ho ancora riacquistato tutta la mia confidenza, però sono contento, oggi secondo me abbiamo fatto una bella prestazione di squadra e sono contento di essere rientrato e spero di poter dare il mio contributo e fare ogni giorno, ogni allenamento, ogni partita qualcosa in più. No, è stato bellissimo sicuramente fare meta, in un ruolo come mio non è esattamente la cosa più facile del mondo rispetto a un'ala, un trequarte in generale, una terza linea, però sognare in un derby alla partita di rientro dopo così tanto tempo è stato molto gratificante, è stato bello, sono molto contento.